Diego De Gasperi Almeno andare sotto il 59 si può andare Non me ne aspettavo il 43 Io per scherzo ieri ho detto faccio il 40 Perché volevo autocaricarmi un po' E veramente se non c'era Leo Grande Che comunque sono passato abbastanza veloce Però ho dovuto un po' frenare Potevo fare il 41 Ma questo non me ne frega niente Mi va benissimo il 43 Sono un terzo saluto nella mia Trento Bondone Alla soglia degli anni che si sanno che ho Con una macchina che ho provato due settimane fa Non ho fatto neanche un test in pista Con la macchina del campione europeo In prestito Non so darmi pace Sono stracontento Hai festeggiato il migliore dei modi il tuo compleanno Bravo è vero Due giorni fa ho fatto quel mega festone Dove ho invitato tutti gli amici di tutta Italia È stato di buon auspicio Io dovevo dedicare questa vittoria Assolutamente alla mia famiglia Perché sono 25 anni che mi sta dietro Adesso cominceranno anche i regalini Perché sai se non fai sotto i 10 Papà ma ok allora devo cambiare la macchina Il cagnolino Insomma c'è un sacco di regali Che ho promesso un po' qua un po' là Però li faccio volentieri E quindi adesso cosa puoi chiedere ancora questa gara? No questa gara Io ho chiesto andare sotto i 10 Prima che Simone vada sotto i 9 C'è mancato un pelo che ci andava Per fortuna mi sono salvato per un anno ancora No loro sono dei mostri Che la guidano Guidano questa macchina da ormai da anni Sono di professionisti veri Ormai lo fanno per mestiere sia Cristian Anche Simone Infatti faccio i miei più grossi complimenti Io sono un autodidatta Che ci sta dando dentro di brutto Mi piacciono le sfide Ogni anno cambio macchina Ho cambiate tantissime E questo mi dà uno stimolo enorme Ho tanta preparazione fisica dietro Per fortuna Per guidare questi mostri E non posso chiedere di più del Bondone Bastava andare sotto questo Adesso mi divertirò ai prossimi anni Con questo bel tempo Adesso per qualche settimana Ne avrò da raccontare In giro al bar